Volano farfalle, non sto più nella pelle, ho perso le emozioni nelle ritrovi tu Da questa notte, no no, non voglio stare male, diammi due reali per l'uomo Se una volta a casa, i-a-i-a E lascia, vanno farfalle Piovano farfalle, piovano farfalle Buonasera a tutti ragazzi, ma c'è pozzicano, vado fa, vado fa, vado fa, vado fa, vado fa, piovano farfalle Non avevamo l'energia, perché c'è vecchio E allora diciamo oggi, abbiamo dato Buonasera a tutti ragazzi Napoli batte Juventus 5 a 1 E finalmente, e finalmente Lasciamo questa canzone, corto musso, 1 a 0, 1 a 0, 1 a 0 Non dobbiamo ancora, non dobbiamo ancora, vado fa, vado fa, vado fa, vado fa, vado fa, vado fa, non mi chiede? direttore ma i ragazzi facciamo i pagelloni che a momento a momento arriva questa metà in arredo che mi ha fatto che c'è s**t facile vabbè ragazzi come un complimento al NAB grande bella squadra ma io sto discendo all'inizio della stagione anche gli amici interisti milanisti e alla fine con l'Inter che ha perso un incidente di percorso l'Inter meritò di vincere e oggi ha meritato alla grande a me che mi piacciono un apple dopo tre anni quattro anni che continuava ad attaccare quella la voglia di giocare di segnare quando stai da scattando il buon avversario scatto un go scatto un go come non fatti che ne ho oggi il calcio è così e non esiste una chiacchiera una zero non mi fate dire parolacce che già oggi mi sono mantenuto 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 scesni cinque e mezzo alla fine ragazzi in gol si può da pur la sufficienza ma cinque e mezzo perché in sufficienza non capisco in gol scelga perché cinque volte scusate giusto sul primo gol poteva fare qualcosa in più ma alla fine non è per lui che abbiamo perso danilo quattro ma hai questi giornalisti questi poponi che danilo rinnovano e non hanno normali niente eccezionale queste da ben queste non sono più fissate come un centrale ma ne ne cosa so con quattro danilo alexandro 3 ritorni la medaglia non mi piace bremer oggi ragazzi uno e mezzo non ha fatto tutta la qua la fa davverta io sì ma capo canoniero sì ma uno e me non ha ne cosa bremer non è da ci vado in fortuna ma ti dica come a girare la capo stasera bremer il tridente di indifesa brasiliano capo di cazze macchini 3 e mezzo un fantasma ragazzi un fantasma ne ne pupco ha fatto non c'entrò camposchini locatelli rabbio 3 e mezzo macchini 5 locatelli e 5 e mezzo rabbio lento imprecisi senza grinta chi ne è tre l'hanno fatto la ritorno di notte la vodka zelischi e ualda dombele e ualda non stanno proprio parare che ho costi oggi insufficiente 5 di maria fai qualche copra e lento svetica non stai concentratissimo fai che capo di scuovente di maria sei fai tu go milico un altro fantasma o milico quattro e poi va salto con loro bene e poi la panchina che entra a can 5 non vale mai riuscire a parlare a can e come alessandro sembra la stessa storia pare adesso 5 non ha altro che stai bel kinkind pro secco miretti 5 e mei sulle ailing junior senza voto ragazzi allegri uno più uno più ma non puoi dare parola non puoi dare parola però ha detto alle interviste che sono partiti che nascono così non c'abbiamo energia cristo e mezzo bla 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 non ci dobbiamo deprimere ma non va non va non va non va non va non non è non è non è non è ora quello che vi devo dire fate un buon sabato da un buon weekend tutti a casa tutta domani sera alle 6 c'è il Milan se qualcuno ha piacere venire via Cappellini diamo Lecce e Milan alle 6 e alle 20.45 l'Inter con Verona sportivamente parlando alle 2 diamo il Bari se qualcuno è interessato a vedere il Bari alle 2 domani orario è continuato e ci facciamo la scorpacciata di partiti domani Vlimcio ben finca sempre forza Juve l'unica cosa ci sa se la servia diarrea ma diarrea è sciolta è sciolta va bene ragazzi con questo tolgo il disturbo forza Juve buonasera a tutti ciao a tutti ciao saluto a tutti